Salve, giornata delirante oggi a livello di leak, rumors, immagini ufficiali uscite dal fronte Lego Davvero da quando faccio questo canale non mi era mai capitata una roba così Probabilmente avranno leakato qualche catalogo Lego oppure, boh, adesso scappare delle informazioni Perché la quantità di set che si sono vissi oggi in anteprima è incredibile Vi invito per vedere un po' tutto quello che è uscito, ho cercato veramente anche lì di selezionare un po' la roba migliore La tab community su questo canale Lego dove vi metto di solito i leak quando escono tra i TG Lego oppure dei rumor, delle robe interessanti Oggi c'è questa carrellata incredibile di immagini, tanti post, spero di non avervi annoiato con le notifiche Ma è per rendervi un po' partecipi A fronte di questo probabilmente fare un TG Lego adesso rischia di essere un po' obsoleto fra 5 minuti Ma beh, faremo un'edizione straordinaria se succede Vi faccio vedere delle cose che ho selezionato io un po' più interessanti Partiamo da questo leak, non ancora completamente confermato L'immagine secondo me è abbastanza credibile sull'art dei Rolling Stone, il 31-306 che si sapeva Per me è credibile l'immagine e sarebbe però interessante se fosse vera Perché come vedete è molto diversa dagli altri art Cioè non ha tutti i pezzi uno a uno ma dei pezzi più grandi a formare questa immagine Secondo me è anche meno una rottura incredibile rispetto agli art da montare Cioè la trovo un po' più divertente come montaggio Anche la forma è strana Però potrebbe essere che per questo set in particolare Abbiano deciso di fare qualcosa di diverso Vediamo se è vera o se è un fake Non posso confermare Tante novità da Monkey Kid Veramente tanti set Devono ancora uscire alcuni da listino Tra cui uno da 180€ È una serie che non conosco granché Ma devo dire che LEGO ci sta credendo moltissimo E sta facendo anche dei bellissimi set Secondo me a livello dei migliori di Ninjaku Cioè è una serie importante per LEGO in questo momento Non casuale Vi faccio vedere un po' le scatole di tutti i set che si sono visti in questi giorni E poi quando capiteranno gli altri vediamo Come vedete i più grandi sono proprio interessanti Sono belli Non è una serie che interessa a me Ma li trovo super interessanti Liccata anche un set della serie mitica E questo invece onestamente lo trovo un po' deludente Viene un po' dagli animali grossi Che stavano a Legoland O alla Lego House Adesso non ricordo Credo Legoland Questo set è proprio piccolino Poca roba Insomma non lo trovo per niente interessante Però magari può interessare qualcuno Qualche novità invece da Minecraft Vi faccio vedere i due set più interessanti Che si sono visti Forse mancava da un po' Minecraft Per il Covid Forse aveva saltato qualche passaggio I due set grandi sono davvero molto carini Ufficiale invece IEM Groot Che è preordinabile Poi devo controllare in realtà L'ho letto ma non sono andato a controllare Sul sito sull'Ego Shop In uscita il primo agosto 476 pezzi 555 dollari IEM Groot Devo dire che se lo vedete da vicino Non è un gran che Visto invece a distanza Sulla scrivania Nell'immagine che si vede Molto più interessante Devo solo capire se posso inserirlo nella serie Quella del martello e del guanto dell'infinito Oppure Ciccia Ci penso Ci penso Molto interessante però Ufficiale anche il Lego City Freight Train Tra l'altro nella tab community trovate invece altre foto Dei Lego City sui treni Il 6336 Sono 1153 pezzi Esce a giugno con altri set di treni Appunto che abbiamo visto oggi Dovrebbe costare 170-180 euro Se piace il Lego City Cominciano anche a fare cose interessanti Qui e poi abbiamo Sempre un leak in realtà Perché di ufficiale In questo marasma Secondo me Non c'è tantissimo ancora Il Brick S Dedicato ai professori di Harry Potter È un pacco da 4 40 dollari Con McGonagall Trilovny Medai Moody E Snape Voi li conoscete Con nomi italiani Che io non mi ricordo Qualche notizia interessante Anche sul Starry Night Di Van Gogh 2316 pezzi 1100 No 160 dollari Guardate ma c'ho delle cose scritte male Con la tastiera Dovrebbe uscire il 25 maggio Per i VIP Ancora non si è visto niente Dovrebbe avere la Minifigual di Van Gogh Quindi probabilmente si avvicina molto Al set che abbiamo visto Prezzo Abbastanza alto Vediamo un attimino cosa diranno fuori Oggi hanno Lego DS anche ufficializzato Per 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 raggiungere Follia a sta giornata I 39 progetti Che faranno parte Della First Fest 2022 Rio Vi faccio vedere Vi faccio vedere Alcune delle cose Più importanti Ma poi vi metto sotto In calcio al video Un link Dove ci sono Tutti gli altri Tutti e 39 Insomma potete andarvele a vedere Interessanti abbiamo Hanging Flowers La Polaroid La Opera La Lancia Delta In decrale Alcuni Ve l'avevo forse Già fatti vedere Io vi ringrazio Mi raccomando Mettete un follow Che è importantissimo In questa fase Abbiamo cominciato a fare Anche delle live Di montaggio Ho ordinato Il Lenspeeder E il Colle Lungo Di Horizon Zero Dawn Tra l'altro È andato a rubissimo Ovunque E lo monteremo Insieme In live Sia su questo canale Che su Twitch Se volete seguirmi E Fatemi sapere Insomma Se sta roba Delle notizie Della community Ti interessano I leak Non me ne frega niente Perché siamo proprio In una fase iniziale In cui prendiamo anche Delle decisioni Cerchiamo di non rompere Le scatole a tutti Fatemi sapere Mi raccomando E sianoci poi Anche durante le live Grazie a tutti Grazie a tutti